Lo strumento è uno strumento realizzato tutto in Excel, o meglio tutti gli indicatori sono stati prima preparati con programmazione libera in SAS, ma poi sono lo strumento realizzato in Excel e in diversi fogli elettronici, l'utilizzo è piuttosto semplice, è necessaria una competenza di base dell'uso di Excel nell'ordinamento delle varie colonne, nell'utilizzo dei filtri, ma non si deve fare nessun tipo di calcolo. Quindi vediamo prima il contenuto dei singoli fogli per poi passare ad un esempio di utilizzo pratico. Allora il primo foglio denominato HADS Piemonte contiene il calcolo di diversi indicatori che vi ho illustrato per le 323 zone di azione per la salute piemontese. È suddiviso in diverse colonne raggruppate per codici colore, le prime quattro colonne rappresentano i diversi territori per i quali è rappresentabile il fenomeno, gli indicatori ripeto sono stati calcolati per le 323 text on zone, ma sono filtrabili per i diversi livelli territoriali, quindi attraverso l'uso del filtro potremmo ad esempio utilizzare e visualizzare le informazioni relative alle 109 HADS montane. Potrebbero essere ancora ulteriormente filtrate per le 12 ASL piemontese e per i 35 distretti sanitari. In azzurro chiaro poi vedete rappresentati i 5 indicatori di disagio sociale, li ripeto la percentuale di soggetti con bassa istruzione, la percentuale di soggetti inattivi, la percentuale di NIT, ancora la percentuale di soggetti in affollamento abitativo e la percentuale di soggetti provenienti da paesi a forte pressione migratoria. E poi la somma di questi 5 indicatori dopo che sono stati trasformati in distribuzione Z e quindi l'indice di disagio sociale. In colore azzurro più scuro troviamo gli indicatori di bisogni, 5 indicatori di bisogni di salute che sono il tasso grezzo di mortalità prematura, il tasso grezzo di salute mentale prevenibile, il tasso di interruzione volontaria di gravidanza, quello di utenza certe con dipendenze da sostanze e infine quello di traumi da incidenti. Anche questi vengono trasformati e sommati nell'indice composito di bisogni di salute. I due indici di disagio e di bisogno poi vengono sommati in un indice complessivo sintetico di disagio sociale di bisogni di salute, l'indice HADS di fabbisogni di prevenzione. Questi tre indici composici poi abbiamo detto che li abbiamo categorizzati in quinti di aree per individuare le zone di azione per la salute, quindi abbiamo individuato zone di azione per disagio sociale, quindi da molto agiate a molto disagiate, ancora zone di azione per bisogni di salute da molto sane a per niente sane e ancora zone di azione per la salute da azione molto bassa ad azione molto alta. Anche qui possiamo attraverso l'uso dei filtri ad esempio selezionare i territori ad azione molto alta ad esempio all'interno della precedente selezione sulle unioni montane, quindi sono selezionati sei territori montani ad azione molto alta. Il secondo foglio è assolutamente sovrapponibile al primo, mancano le intestazioni di cella complessive e il foglio che io vi consiglio di utilizzare per fare gli esercizi e gli ordinamenti dei ranking tra i territori. L'accorgimento è sempre quello prima di fare gli ordinamenti di selezionare cliccando qui in alto a sinistra tutto il foglio di lavoro e poi andare su dati, ordina e ordinare il fenomeno per l'indicatore di interesse dal valore più grande al valore più piccolo o viceversa. Il terzo foglio riporta le informazioni che vi ho presentato nel PowerPoint rispetto quindi alla popolazione nei diversi numeri di ads, sono aggiunte qui le rappresentazioni cartografiche dei comuni, capoluogo di regione e di provincia con le denominazioni dei diversi territori in modo da poter guidare l'utilizzatore a capire quali sono i territori più o meno disagiati e bisognosi di salute della città a cui si vuole fare riferimento. In questo foglio sono ancora riportate le popolazioni per le diverse ads e anche quali sono ad esempio i comuni che compongono le diverse ads, quindi se vogliamo ad esempio lavorare sulla zona 10 del Chivassese sappiamo quali e quanti sono i comuni che la compongono con il loro codice ISTAT di riferimento e la popolazione che le abitano. Ho poi riportato in questo foglio la spiegazione dei diversi indicatori di disagio sociale, di bisogno e di sintesi che vi ho già presentato, sono ancora riportati i grafici ad esempio dell'istribuzione dei tre indici, le rette di regressione, il numero dei punti tra disagio sociale e bisogno, ancora la regressione tra l'indice HADS e l'ospedalizzazione e coi valori minimi, massimi e diversi momenti e ancora la matrice di correlazione per la valutazione della collinearità tra le varie informazioni che vi ho già presentato. Quest'altro foglio riporta le fonti informative che sono state utilizzate per il calcolo e la costruzione dello strumento, infine la bibliografia di riferimento alla quale ci siamo ispirati e le istruzioni all'uso dello strumento con l'indicazione della versione dello strumento che stiamo utilizzando. Quindi lo strumento è di per sé autoesplicativo, tutte le informazioni che vi ho raccontato nel PowerPoint sono poi riportate e riassunte nei diversi fogli dello strumento, quindi usando lo strumento potrete individuare i territori sui quali implementare gli interventi e le azioni previste delle diverse linee attività del piano regionale di prevenzione. Possiamo ora provare a fare un esempio di utilizzo dello strumento soffermandoci ad esempio su un ASL, provo a selezionare quindi usando il secondo foglio l'ASL Torino 4, provo a ordinare i territori per il livello territoriale in modo da raggrupparli, vediamo che escono fuori per l'ASL Torino 4 26 HAZ, una appartiene al livello territoriale dell'ex unità sociosanitarie locali, 17 fanno riferimento alle unioni montane collinari, 5 alle zone omogenee dell'area metropolitana torinese e 3 sono grandi comuni dell'area metropolitana torinese. Quindi la composizione del lato 4 si articola in queste diverse HAZ. Possiamo ancora vedere a quale distretto sanitario queste HAZ appartengono. Possiamo provare a fare un primo ragionamento di ordinamento dei territori per l'indice sintetico di disagio sociale di bisogni di salute. Allora selezioniamo tutto il foglio, andiamo su ordina, selezioniamo l'indice sintetico di disagio sociale di bisogni di salute e proviamo a fare l'ordinamento dal più grande al valore più grande al valore più piccolo. Vedete come escono fuori due territori ad azione molto alta che sono l'unione dei comuni montani della Val Chiusella e l'unione montana delle valli Oroco e Soana, quindi la montagna esce fuori come ad azione molto alta. Abbiamo dal lato opposto territori ad azione molto bassa come la zona 4, quindi una zona omogenea dell'area metropolitana nord e ad azione bassa territori di varia provenienza. Possiamo però fare degli ulteriori ragionamenti, possiamo cioè provare a vedere quanto pesa ad esempio la componente sociale sull'indice complessivo, provando a ordinare i territori per l'indice di disagio sociale. sempre dal più grande al più piccolo, vedete come l'ordine dei territori cambi abbastanza, vedete come al primo posto venga fuori l'unione montana delle valli Orco e Soana, ma possiamo ancora provare ad esplorare le singole componenti del disagio sociale e vedere quale di queste componenti pesa di più. La prima HADS più disagiata rispetto alla seconda pesa enormemente di più la percentuale di soggetti provenienti da paesi a forte pressione migratoria, quindi per questo territorio il fattore che incide di più sul disagio sociale è la presenza di stranieri provenienti da paesi a forte pressione migratoria sul territorio di questa HADS. Possiamo complicare il ragionamento passando a vedere quale pesa di più invece tra gli indici di bisogno di salute, quindi proviamo ad ordinare lo strumento per indice di bisogno di salute dal più grande al più basso, vedete come torno in pole position le unioni dei comuni montani nella Val Chiusella, vediamo che qui per questo territorio tutti gli indicatori sono superiori a quelli espressi dal territorio subito seguente, quindi il tasso grezzo di mortalità premantura è praticamente il doppio, è più alto di diversi punti il tasso grezzo di salute mentale, così come gli altri indicatori che abbiamo considerato. Quindi questo è un po' il tipo di ragionamento che ciascuno di voi potrà fare rispetto all'ASL di propria competenza, quindi l'invito è quello di provare a cimentarsi personalmente nell'uso dello strumento, provando a ragionare per i territori di propria competenza su quali sono quelli che emergono come più disagiati dal punto di vista sociale e più bisognosi di salute e a ragionare ancora sulle singole componenti che determinano maggiormente il disagio sociale o il bisogno. Io vi ringrazio nuovamente per la vostra attenzione e vi auguro un buon utilizzo di questo strumento che speriamo possa essere utile per individuare i territori sui quali implementare interventi e azioni in un'ottica di equità.